Tornano in fiera a Vicenza le creative seriali, ma anche occasionali, teatro della mostra atelier internazionale della manualità creativa, da diversi anni un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore, con i suoi numerosi atelier, teme, le aree demo, i patiglioni del capoluogo berico. Abilmente autunno si prepara a cancellare il record della precedente edizione che toccò i 42.000 visitatori, un'edizione in cui il cucito sarà grande protagonista, cucito che diventa la tendenza del prossimo autunno-inverno in tutte le sue declinazioni. Carta modelli, moda fai da te, cucito come home decor, cucito come co-working e socialità, cucito come arte e terapia, infine cucito come nuova professione tutta al femminile. Tutte da vedere all'opera, anche le creative memi, un gruppo guidato dalla dinamica Maria Veneziano, seguito su Facebook da oltre 500.000 fan. Sono soprattutto donne tra i 30 e i 40 anni che hanno deciso di riconquistare il proprio ruolo genitoriale avendo una parte determinante nella crescita dei propri figli. La community propone un nuovo modo di organizzare le feste per i bambini, il progetto roterà attorno al tema dei parti. Abilmente è riconosciuta come la manifestazione leader del settore in Italia ed è tra le più importanti in Europa. Diventa un mas per tutti gli appassionati a caccia delle ultime novità e tendenze del lobbystico e del fai da te. Una fiera dal format innovativo che non vuole essere semplice esposizione ma che si connota per il carattere dinamico e vivace delle tante attività in programma. Sono infatti oltre mille i corsi e i workshop che si tengono all'interno degli stand così come negli atelier creativi. Qui si trova davvero di tutto, tessuti, perline, colori, filati, timbri, passe modellanti, carte e attrezzi per cucito. Abilmente si rivolge a tutte le passioni creative, dal ricamo al patchwork, dallo scrapbooking al decoupage, dalla pittura al cake design. Un grande laboratorio attivo e dinamico. Particolarmente è soddisfatto il presidente di Vicenza Fiera, Matteo Marzotto. Tra molti punti di forza ha spiegato ci sono senz'altro la qualità degli espositori dei loro prodotti, espressione della migliore artigianalità italiana ed europea. Con la partecipazione delle creative più affermate, alcune delle quali internazionali, le decine di dimostrazioni e gli scenografici atelier.